Eugenio Guarducci, Open Day della Casa del Cioccolato, una visita fantastica. Sì, abbiamo voluto fare questa iniziativa perché era giusto che a seguito della firma della Convenzione per la Concessione Trentennale i cittadini di Perugia, la stampa e anche le autorità potessero scoprire per la prima volta il nostro progetto. Prima non era opportuno farlo perché non c'erano ancora le formalità per consentirci di aprirci in questa maniera, ma adesso è tutto a posto e i miei lavori sono iniziati nel discorso. Siamo nelle condizioni, abbiamo voglia di fare trasparenza sulla progettualità e tra l'altro questo sarà un cantiere che parlerà costantemente con i cittadini, darà aggiornamenti sul nostro sito web, quindi cittaleccioccolato.it. Autorità, ieri in maniera molto casuale sono riuscita a rubare delle immagini della sindaca Ferdinandi e della presidente Donatella Tesei, quelle non rubate. Sì, diciamo che ieri la sindaca Vittoria Ferdinandi ha fatto visita al contenitore, abbiamo illustrato il progetto, mi pare che abbia compreso l'importanza di questa realizzazione, però sarà lei a darvi chiaramente atto di questo suo pensiero. La presidente Tesei ha fatto visita anch'essa ieri sera e si è soffermata a lungo anche in terrazza per questo evento di Umbra Jazz, terrazza Swing, ha fatto molti complimenti e siamo felici che le istituzioni abbiano a cuore, come possono non averlo, questo luogo perché è un luogo meraviglioso e lo stiamo riscoprendo proprio in questi giorni. Qualche pensate di aprire? Dunque, noi siamo obbligati da bando ad aprire, a finire i lavori, meglio entro dieci mesi dall'inizio del lavoro, quindi si parla di maggio 2025, da lì alla fine dei lavori abbiamo 45 giorni per richiedere l'agibilità, ma noi contiamo che fine lavori e agibilità coincidano, quindi aprire il prima possibile. D'altronde Giovanni Buitoni quando costruì questo edificio ci mise circa 11 mesi e allora noi dobbiamo essere bravi a fare tutto quello che c'è dentro in dieci mesi. A quanto ammonta l'investimento? 5 milioni e mezzo di euro per la parte sia che riguarda i contenuti ma anche tutto quello che è l'impiantistica, la parte anche di ILE, c'è chiaramente un investimento molto importante sui temi digitali, quindi sarà un'esperienza immersiva, un progetto che secondo me è molto armonico e completo che consente in un'ora e un quarto, un'ora e mezzo di fare una bellissima esperienza in questa che è una delle capitali del ciocquato nel mondo. Grazie.